Campagna elettorale, almeno qui in campagna per quanto riguarda le regionali in proiezione dell'Election Day che dovrebbe celebrarsi a fine maggio, massimo il 7 giugno. Il passaggio di Giorgia Meloni oggi a Salerno rappresenta una gioia per l'intera comunità di Fratelli d'Italia e di Alleanza Nazionale. Il coordinatore provinciale, l'avvocato Michele Cuozzo insieme all'intero staff qui ad attendere Giorgia Meloni entusiasti perché questa competizione regionale come si presenta secondo lei? Difficile per il centrodestra per la riconferma al governo autorato regionale di Stefano Caldoro? Sì, Giorgia Meloni non è la prima volta che viene a Salerno, è un abitui per il consenso, l'affetto che la comunità salenitana ha sempre dimostrato nei riguardi del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare. Ritengo che Caldoro di certo e di sicuro sarà confermato anche e non solo perché ha lavorato bene, perché De Luca rappresenta Bassolino, rappresenta il vecchio, ma anche e soprattutto perché laddove e ove mai malaguratamente De Luca dovrebbe vincere le elezioni, ritengo che non possa essere quantomeno per un tempo nominato o proclamato presidente della regione Campania in virtù di questo procedimento e della legge Severino che ha, a meno che il PD non sarà così accorto da approvare una legge ad persona e allora dimostrerà di che panni sono vestiti questi personaggi che predicano bene e razzolano male. Per quanto riguarda la lista che il partito ha realizzato, ha tutti i numeri anche per poter strappare un seggio regionale? Io penso più di uno e mi auguro e sono certo più di uno. Noi abbiamo già un consigliere regionale che è Alberico Gambino, abbiamo fatto una lista e abbiamo messo in campo le espressioni migliori della provincia di Salerno, del territorio, delle professioni e ritengo che puntiamo a superare il consigliere regionale e sono certo e sicuro che piglieremo due consiglieri regionali. D'altronde le elezioni provinciali ultime ci hanno visto come primo partito di centrodestra, ritengo che abbiamo le potenzialità come partito. L'Italia per la vittoria la riconferma la regione Campania di Stefano Caldoro, sono tante? Noi pensiamo che Stefano Caldoro abbia ben lavorato in questi cinque anni, che meriti di vedere confermato il suo mandato per portare a termine un lavoro importante che ha condotto in questi anni, è una persona che non ha ombre, è una persona e un'aggiunta che ben ha lavorato, nella quale Fratelli d'Italia ha un ruolo centrale, fondamentale, che noi puntiamo a confermare. Io credo che anche, diciamo così, il fatto che da parte del partito si sia lasciato che il territorio corresse, nonostante una donna in democrazio, abbiamo avuto con gli errori del partito democratico di ritenere poco grave la fondamentale, quindi la responsabilità di fare più della soligenza è più di più di più di me. Antonella Buono, il Sole d'Italia, un gruppo, un movimento politico che era nato quasi come scommessa, come provocazione, che invece si sta sedimentando sempre ulteriormente anche per intese sinergiche a livello politico, attualmente con Salvini e con Fratelli d'Italia? Sì, assolutamente, il nostro movimento ha molti anni, però nell'ultimo anno siamo già presenti in 17 regioni su 20, siamo, tenete presente, siamo un movimento di protesta, raccogliamo case integrazione, mobilità interroga, tutto il deficit che esiste in Italia. In questo momento da un anno scendiamo in piazza a contestare a Renzi in tutte le piazze d'Italia e in questo momento ci stiamo unificando l'onorevole Matteo Salvini, l'onorevole Meloni, per fare questa battaglia contro questo governo che assolutamente deve andare a casa, perché sta massacrando a tutti gli italiani. E in questo momento dobbiamo unire le forze del popolo, Salvini, la Meloni, tutte quelle veramente forze di opposizione serie che vogliono cambiare la sorte e il destino dell'Italia. Quindi per questo oggi mi incontro alla Camera di Commercio, l'onorevole Meloni, perché questo discorso è un discorso nazionale. Tanto è così che il 28 febbraio siamo stati presenti nella piazza del popolo nella manifestazione dell'onorevole Salvini, la quale io personalmente ho chiamato tutte le associazioni civiche a partecipare. Ed è stato un grande esito, questo è soltanto il primo passo di quello che stiamo costruendo in questo momento, in questo percorso. Grazie. ...la mente attraverso la quale legge i bisogni di stima assoranza tra quello che tu e il nostro partito a livello nazionale tra amici nel paese delle meraviglie, mentre i cittadini soffrono, mentre gli amministratori locali, crediamo che su queste basi vada ricostruito il dialogo tra la società civile e la politica. Denunciare l'inganno mediatico, sappiamo bene che Renzi si sta iscrivendo a quella triste meridionale. Siamo sicuri che la nostra forza attraverso questa metodologia di lavoro sarà da questa classe dirigente venduta ad un'altra realtà che è quella della tecnologo nazionale europea per riassumare la soccarità a Tocco. Grazie Giorgia per tutto quello che ogni giorno fai in rappresentanza del Consiglio, ma soprattutto in difesa dell'Italia e dell'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.